Volete un esempio di barca veramente sostenibile? Eccola qui! Siamo a Boat di Dusselhof 2024, questo è Impact Boat, è un brand olandese che ha solamente tre anni di vita e stampano le barche in 3D. Ma la cosa interessante è che il materiale che usano è la plastica riciclata della cucina, delle bottiglie normali che noi usiamo tutti i giorni. Creano quindi un prodotto che nasce da materia riciclata e al termine della sua vita può essere interamente riciclata a sua volta la barca, smontando poche parti che sono tutte avvitate o collegate alla barca in maniera facilmente smontabile. Dicevo che questa realtà ha solamente tre anni di vita, ci lavorano sei persone, è a conduzione familiare e hanno già prodotto 40 barche. La cosa incredibile è che hanno in programma di venderne altre 30 nei prossimi sei mesi. Quindi diciamo è un business che funziona, almeno in Nord Europa, quasi tutte le loro barche le vendono in Olanda, un po' in Belgio, un po' in Germania, qualcosa in Inghilterra. È una barca evidentemente pensata prima di tutto per le acque interne, ma può fare anche navigazioni costiere. Per produrre questa barca qui ci vogliono solamente 60 ore di stampante 3D e poi per avere la barca consegnata, accessoriata col motore e tutto quanto ci vogliono altre due o tre settimane. La barca viene proposta dal cantiere con il motore elettrico, in particolare qui è esposta con l'Aviator di Mercury. Però una cosa molto interessante che loro fanno è se gli armatori ancora non si fidano completamente della propulsione elettrica, come dire, offre la possibilità di installare anche un normale motore a benzina e poi entro cinque anni puoi passare alla motorizzazione elettrica. La barca, come vedete, ha una rifinitura esterna un po' grezza perché sono i fili della stampante 3D, ma volendo si può rendere liscia questa superficie, è un lavoro in più e comunque anche quel materiale poi viene riciclato. Il cantiere non vuole dipingere la barca perché lo considera poco sostenibile, ma si può avere una wrappatura, quindi una filmatura esterna. Una cosa che vi starete probabilmente chiedendo è, prima di tutto, quanto pesa. Perché le cose stampate in 3D sono piene, sono massicce, quindi sono necessariamente un po' più pesanti e questo modello pesa 600 kg. Seconda domanda è quanto costa. Questa barca costa di base, cioè proprio base, base solo lo scafo in 3D, 27 mila euro. Per avere tutto pronto con la barca alla boa, come si dice, navigante con IVA e tutto quanto costa 50 mila euro.